Una rumena di 27 anni, Ciurar Elena, è stata sottoposta a fermo di indiziato di delitto per furto aggravato con destrezza, con strappo e minorata difesa dai carabinieri di Pesaro, ritenuta la responsabile di almeno tre furti ai danni di uomini. La tecnica usata dalla donna, affiancata da una complice, era molto semplice. Adescava uomini di mezza età, proponendo prestazioni sessuali a poco prezzo nei pressi dell'ipercoop di Pesaro e una volta portati fuori dalla portata delle telecamere, gli si buttava letteralmente addosso, strappandogli via collane e braccialetti con destrezza. Il bottino ammonta a quasi 3.000 euro. Con una serie di approcci avvicinava le vittime all'interno nei pressi di un supermercato, parliamo dell'ipercoop a Pesaro, le vittime venivano condotte fuori dal supermercato, ma questo riteniamo che possa essere avvenuto anche in altri luoghi, sempre a Pesaro, quindi lontano da telecamere indiscrete e qui poi andava avanti con discorsi anche a sfondo sessuale, quindi approcci di questo genere. Naturalmente discorsi che poi le consentivano di avvicinarsi alla vittima, in qualche modo portavano poi a ollo strappo della catena in oro che avevano al collo, oppure al furto con destrezza del portafogli o dello stesso bracciale che qualcuno delle vittime aveva al polso. La denuncia di un pesaresi di 50 anni derubato di una collana d'oro del valore di 1.700 euro e la visione dei video di sorveglianza, i carabinieri hanno potuto individuare la donna. È importantissima la denuncia immediata da parte delle vittime nei confronti delle forze dell'ordine, ci consente naturalmente la denuncia di raccogliere nell'immediatezza quelli che possono essere tutti gli elementi di prova per quel genere di reato, per quello che si è verificato, e quindi anche raccogliere ad esempio immagini delle telecamere che a distanza di tempo non potremmo farlo e quantomeno anche testimonianze nell'immediatezza come effettivamente sono risultati utili nei casi di specie dove anche dei cittadini che si sono trovati in qualche modo ad assistere agli episodi poi hanno fornito la piena e ampia collaborazione ai carabinieri. Ora sono in corso ulteriori indagini per risalire alla sua complice.